La Sampdoria si è ritrovata da pochi minuti al centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco per preparare al meglio la sfida che la vedrà protagonista questa sera allo stadio Luigi Ferraris con la Roma di Rudy Garcia. Sampdoria che vuole voltare pagina dopo il capò subito all'Olimpico di Torino con i Granata di Giampiero Ventura. Roma che si presenta a Genova con l'intento di fare punti per dimenticare a sua volta il mezzo passo falso con il Sassuolo che è riuscito a fermare sul punteggio di parità all'Olimpico di Roma i giallorossi. Sampdoria che però vuole provare a giocare una gara accorta e attenta come precisa lo stesso Roberto Soriano. Il bello del calcio è questo che dopo qualche giorno c'è subito un'altra partita, un'altra partita difficile perché c'è la Roma che è una grandissima squadra però in casa abbiamo sempre fatto delle belle prestazioni e quindi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto nelle prime tre partite l'importante è che l'atteggiamento è giusto perché contro queste squadre qui ci vuole cattiveria e poi in casa siamo forti quindi ce la metteremo tutta per fare una bella prestazione. La Roma con tutti gli acquisti che ha fatto anche quest'estate ha una rosa importantissima però come ho detto prima in casa siamo forti poi anche grazie ai nostri tifosi riusciamo sempre a dare di più quindi entriamo in campo con la voglia di stupire e fare una grande partita.